bene ragazzi buongiorno benvenuti in questo nuovo video quelli che vedete qui davanti sono i nuovissimi portachiavi del gilera runner ve l'avevamo promesso che sarebbero stati i prossimi ad uscire dopo quelli dello zip sp prima serie ed ora eccoci qua con i mitici portachiavi personalizzati disponibili sempre nelle stesse colorazioni di quelli dello zip ovvero il nero classico verde fluo blu elettrico giallo fluo rosso acceso e arancione bello acceso ovviamente per tutte le informazioni trovate qui sotto il link con la mail a cui scrivere oppure potete contattarmi su instagram trovate comunque tutte le informazioni sempre in descrizione state attenzionati come dice qualcuno perché tra qualche giorno usciranno anche il booster l'aerox l'f12 l'energy power l'sr factory l'energy mc2 l'onda zx il jog r e probabilmente anche qualche altro modello minore su cui sto ancora lavorando per adesso è tutto da me da fare youtube che vi saluta a distanza è tutto un saluto alla prossima ciao 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 ciao